Ciao ragazzi, da questo schizzo, oggi siamo con un nuovo video, oggi siamo qui a parlare dell'europeo Io qui sotto di me non ve lo faccio vedere, ho un foglio Non ve lo posso far vedere perché sennò mi spoilerò delle cose Dove ho provato a predire, prima dell'europeo, i gironi Ora li andiamo a leggere, a vedere quante ne ho azzeccate Ho provato a predire i gironi, ovviamente ho messo prima, seconda, terza e quarta E i punti Poi, a fine europeo, qui dopo che sono passate, sono finiti i gironi E si sapeva gli accoppiamenti, li ho messi qui e ho provato a predire chi vincesse l'europeo Io qui ho una risposta, vedremmo quante ne ho azzeccate, ovviamente a fine europeo Dopo che sono finiti i gironi, ho visto gli accoppiamenti, li ho messi qui E ho provato a predire il cammino e la vincitrice di questo europeo Io direi di partire con i gironi Allora, partiamo con il gruppo A, quello della Germania Allora, sono passati Germania, prima sette punti, la Svizzera seconda cinque, l'Ungheria terza a tre, la Scozia invece ha fatto solo un punto Io avevo parodetto, io avevo messo Germania che passava a nove punti, Svizzera che passava a sei Ungheria che faceva tre punti, passava miglior terza, la Scozia invece ha zero punti Ho azzeccato tutte le posizioni perché Germania, Svizzera, Ungheria e Scozia Ho azzeccato i punti dell'Ungheria Però non è passata come miglior terza come avevo messo io Sicché qui ho fatto bene, Germania e Svizzera sono passate E le avevo, le ho prese L'Ungheria, tre punti, ho preso che ho fatto tre punti Però non ho preso perché avevo detto che passava un miglior terza, invece non è passata un miglior terza Scozia a quarta Avevo messo che facesse zero punti, invece ne ha fatto solo uno Andiamo al girone B, quello dell'Italia Dove io, dove sono passate Spagna a prima nove Italia a seconda a quattro Croazia è andata a terza a due Mentre l'Albania ha fatto solo un punto a quarto Ho azzeccato la posizione della Spagna perché l'ho messa prima a nove punti Ho azzeccato sia posizione che punti Ho azzeccato la posizione dell'Albania perché l'avevo messo quarta L'avevo messa a zero punti, invece ne ha fatto uno Mentre non ho azzeccato Croazia e Italia Avevo messo Croazia a seconda a sei punti Mentre l'Italia terza a tre punti, passata come miglior terza L'Italia è passata a seconda a quattro punti Mentre la Croazia è terza a due punti E non è nemmeno lei una delle migliori terze Io andrei al girone C Quello composto dall'Inghilterra Io, allora, il giro è andato a finire con Inghilterra che passa a cinque punti Danimarca a seconda a tre punti Slovenia terza a tre punti E la Serbia a quarta a due punti Mentre avevo messo, sì, l'Inghilterra L'avevo messa a nove punti Avevo messo che per me passava la Serbia a quattro Danimarca facesse due punti e la Slovenia ne facesse uno Mentre la Danimarca è passata come seconda E la Slovenia è passata come una delle migliori terze Perché qui ho cercato solo l'Inghilterra Solamente qui ho cercato solo l'Inghilterra Andiamo al gruppo D Dove, quello composto dalla Francia Allora, dove è passata l'Austria Prima a sei punti La Francia a seconda a cinque L'Olanda come miglior terza a quattro Invece la Polonia un solo punto Mentre avevo messo, sì, che la Francia passasse come prima a nove L'Olanda passasse come seconda a quattro Polonia terza a quattro punti E forse una delle migliori terze Mese l'Austria a zero punti Ha vinto il girone Direi che qui ho cercato passasse la Francia Però l'avevo messo come prima Invece è passata come seconda Avevo, sì, detto che passava l'Olanda come seconda Ma invece è passata come miglior terza E la Polonia che ha fatto un punto Io avevo messo una valla a fatti quattro L'Austria che ne ha fatti sei Avevo messo che ne facesse zero Perfetto direi, perfetto Allora, gruppo è quello del Belgio Io avevo messo, allora, questo girone è finito con tutte a quattro Romania che passa come prima a quattro punti Belgio come seconda a quattro punti Slovacchia terza, che passa come miglior terza a quattro punti L'Ucraina quattro punti Invece io avevo messo qui Belgio e Romania che passava Belgio come prima a sette E Romania secondo a sette punti L'Ucraina ha un solo punto E la Slovacchia ultima a un solo punto Queste hanno fatto tutti e quattro E però ha azzeccato chi passasse Avevo detto che passava Belgio e Romania E sono passate Belgio e Romania invertiti Cioè invertite È passata Romagna come prima Belgio come seconda E poi ho messo Belgio come primo E Romagna come seconda E nessuna E qui però è passata anche la Slovacchia Una miglior terza che avevo messo ultima a quattro Andiamo nell'ultimo girone Quello del Portogallo Dove abbiamo messo Portogallo dove è finita Portogallo sei punti Turchia sei punti Giorgia quattro E Repubblica cieca a un punto Ho azzeccato la disposizione Perché ho messo Portogallo prima nove Ne ha fatti solo sei Turchia seconda a sei punti E li ho azzeccati Giorgia miglior terza A tre punti come miglior terza E ci ho azzeccato E passasse miglior terza Ma ha fatto quattro punti Mentre la Repubblica cieca l'avevo messa a un punto solo L'avevo messa a zero punti Invece ha fatto un punto Ricapitoliamo Girone A Io avevo detto passavano Germania, Svizzera e Ungheria Germania e Svizzera Ho detto passavano Germania e Svizzera E Ungheria come miglior terza Invece sono passati Germania Sono passati sì Germania e Svizzera Ma l'Ungheria no come miglior terza Girone B Io avevo detto passavano Spagna-Croazia Prima e seconda E Italia come miglior terza Sono passate È passata sì la Spagna Ma è passata come seconda l'Italia E nessuna miglior terza nemmeno qui Andiamo nel gruppo C Dove avevo detto passavano l'Inghilterra e la Serbia E nessuna miglior terza Invece sono passate l'Inghilterra, la Danimarca E la Slovenia come miglior terza Il gruppo A io avevo detto passavano Francia-Olanda e Polonia come miglior terza Mentre sono passate Austria e Francia E la Polonia e l'Olanda come miglior terza Andiamo al gruppo E dove avevo detto che passavano Belgio-Romania Come prima e seconda Sono passate sì Belgio-Romania ma Romania Prima Belgio-Seconda E la Slovacchia come miglior terza Che avevo messo ultima Nel girone e avevo messo passasse Portogallo-Turchia E Giorgia come miglior terza E così è successo Solo che avevo messo Portogallo a 9 Ha fatto solo 6 punti Turchia a 6 e l'ho azzeccato Giorgia a 3 ha fatto 4 punti Era proprio calciata a 0 e ne ha fatti 1 Ricapitolando andiamo Vi dico poi a questo punto Abbiamo capito chi ha azzeccato E per completezza diciamo Come sono composte le squadre Agli ottavi Si affronteranno Spagna-Giorgia Germania-Darimarca Portogallo-Slovenia Francia-Belgio Romania-Olanda Austria-Turchia Inghilterra-Slovenia Svizzera-Italia Io qui ho già predetto Chi vincerà l'europeo Ma lo vediamo solo a fine europea Ragazzi Spero sto video vi sia piaciuto Spero si sia capito La mia predizione Io direi che noi ci vediamo A un prossimo video E il prossimo video Penso sarà proprio Non penso da quello Della mia predizione Dal vincitrice dell'europeo Noi ci vediamo Un prossimo video ragazzi Prima di chiudere Ci tenevo a dirvi Che ho aperto Un profilo Instagram Da un po' di tempo Sugli anime Ci terrei che mi seguiste Che quando vedo Che avrò un po' di seguito Inizierò a mettere post E andate sotto L'ultimo Il secondo post Che ho fatto Dove ho messo Da chi vi fa riservare Tra tre personaggi Atemi Voi iscrivetevi Da chi vi fareste salvare Noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Sotto in descrizione Il profilo Degli anime Ve lo metto sotto In descrizione Anime World Ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao